Quanto casino, quanta confusione, tanta eh, credo anche troppa, permettetemelo, credo anche troppa, perché per me la delusione è giustissima, vediamo di non andare oltre la delusione, perché se andiamo oltre la delusione andiamo a crearci il danno da soli, andiamo a buttarci addosso un pochettino di negatività, l'entusiasmo deve essersi sgonfiato, perché ovviamente la delusione è logica e anche i giocatori della Juventus saranno delusi, ma se andiamo oltre questo ci facciamo del male da soli. Guardate cosa ci racconta una giornata di campionato come tante altre, l'Inter che pareggia col Monza, tra l'altro dopo essere andata sotto a pochi minuti alla fine e con un gol che è riuscito a ribeccare la parità e quindi portarsi a casa un punto. In questo momento c'è solo il Napoli sopra di noi, a più uno, con la prima partita persa per 3-0 contro l'Elas Verona e lì c'era stata tanta confusione, tanti problemi, tanti processi già al Napoli di Conte che era stato dato per finito, un progetto saltato per aria. Sapete come la penso? Io credo che Juve, Inter e Napoli saranno le prime tre classificate alla fine del campionato, quindi guardare la classifica oggi non mi sorprende, non stupisce, poi sono dell'idea che la classifica alla quarta giornata del campionato lasci un po' il tempo che trova, perché abbiamo la possibilità domani di avere capolista l'Elas Verona, basta una vittoria in una di queste due formazioni e l'Udinese andrebbe a 10, l'Elas andrebbe a 9. Che cosa mi rappresenta la classifica dopo quattro giornate di Serie A? Assolutamente nulla, proprio niente. Poi è ovvio che possiamo stare qui a dire, eh il rimpianto, certo ma il rimpianto vale per tutti, eh se l'Inter non avesse pareggiato col Monza, eh se il Napoli non avesse perso con l'Elas, eh se la Juve avesse vinto con l'Empoli. Noi ora possiamo soltanto guardare avanti, l'unica cosa che possiamo fare è imparare dai nostri errori, cercare di comprendere quelli che sono stati i nostri limiti e annullarli, già a partire dalla partita di Champions, di martedì, che mi sembra la cosa più importante da fare, anche perché a me la Champions manca, non ho altro modo per dirvelo, dopo un anno in cui siamo stati lontani e dopo l'ultima catastrofica Champions League giocata dalla Juventus, io ho proprio voglia di vivere un po' di notte europee e sono anche molto curioso di questo nuovo format. Oggi è già vigilia, siamo già nel pre-partita e c'è questo video alla mattina per fare due chiacchiere insieme, ci vediamo anche intorno alle 14 o giù di lì per analizzare la conferenza stampa di Tiago Motta. Vi dico già che sarà un video diverso dal solito, non riuscirò a trascrivere tutta la conferenza perché dovrò anche caricarlo abbastanza al volo, sarò negli studi di tutti i inbox e quindi prima di iniziare la trasmissione andrò ad ascoltarmi la conferenza di Tiago Motta e a portarvi quelli che secondo me saranno i punti principali prima di andare in onda. Quindi doppio appuntamento, ci vediamo sia sul canale sia su YouTube in live di Tutti in the Box per fare un po' il punto di questo campionato. Permettetemi una piccola digressione, perché la critica delle ultime ore è secondo me una follia e cioè non stai criticando Motta dopo aver massacrato Allegri. E allora perché? Perché massacravi Allegri e non stai massacrando Motta? Io rispondo a questa minoranza molto rumorosa, perché per fortuna stiamo parlando di poche persone ma che fanno tanto rumore. e se c'è qualcuno che dopo quattro giornate si mette a massacrare Tiago Motta perché magari aveva in testa di essere primo in classifica a più quattro dalla seconda con venti gol segnati e zero subiti il problema non è mio, ma è di queste persone. Il problema non è di Tiago Motta, non è della Juventus, ma è di queste persone. Abbiamo visto che anche la squadra che sulla carta è più attrezzata come l'Inter in questo momento ha i nostri stessi punti, ha pareggiato a Genova, ha pareggiato col Monza forse sulla carta anche squadre minori rispetto alla Roma che comunque non sta facendo bene in questo campionato ma che è comunque una squadra complicata da andare ad affrontare. Se dopo quattro giornate dovessi mettermi a massacrare un allenatore sarei da camicia di forza. Lo dico, lo dico, da camicia di forza. Non ci saranno mezze misure o mezzi dei giri parole per far passare da camicia di forza. Anche perché io voglio raccontarvi che la critica è giusta e sacrosanta. Io stesso sono stato deluso da questo pareggio a reti bianche dell'Empoli e c'è un video caricato qui sul canale in cui ho spiegato cosa non ha funzionato secondo me. Ma la critica è una cosa, la delusione è una cosa, l'essere un pochettino sgonfi di entusiasmo è una cosa, il massacro, il battezzare eccetera eccetera non ha senso. Ho fatto anche un post l'altro giorno in cui dicevo che questa Juve mi sta ricordando tantissimo la prima di Conte. Dopo quattro giornate otto punti, esattamente come ora, con due pareggi che erano stati un pochettino deludenti contro Bologna e Catania. Ecco, Roma è Empoli, vediamoli sotto questa luce, no? In questa falsa riga. Due squadre che pensavi di poter battere, anche se la Roma forse un pochettino meno perché era già il primo test importante in cui alzavi l'Asticella, però alla fine non porta a casa il risultato pieno contro delle squadre qui l'Empoli all'epoca del Catania che pensavi di battere. Alla fine quella Juve di Conte, la prima Juve di Conte, tra l'altro Conte che in questo momento è al primo posto in campionato e andremo ad affrontare a breve, quindi sarà già una partita di cartello, aveva basato tutta quella rifondazione del ciclo Juve sul gruppo e sulla fase difensiva. E poi parleremo di questa cosa perché, ripeto, questa Juve mi sembra tantissimo, quella Juve lì. La critica è sacrosanta, ve lo torno a dire, però io quando ho iniziato a battezzare, a dire che per me Allegro non doveva essere più la natura da Juventus, c'è stato del tempo prima di arrivare a quel punto. Dopo quattro partite non arriverò mai a dire che l'allenatore deve essere sostituito a Juve, dopo le prime quattro partite, perché non fa parte del mio modo di ragionare e di essere, ma proprio no, non avrebbe senso farlo. Io ho fatto tutto il primo anno di Allegri, che tra l'altro nelle prime quattro partite nell'ordine eudinese Juventus 2-2, Juve-Empoli 0-1, ero allo stadio, partita terrificante, Napoli-Juve 2-1 e Juve-Milan 1-1, due punti in quattro partite con zero vittorie e due sconfitte, significa che non si erano partiti bene. E concludiamo l'annata con 52 partite, 80 gol fatti e 55 gol subiti e zero titoli, e 55 gol in 52 partite sono dei numeri raccapriccianti per un allenatore che ha sempre messo la fase difensiva al primo posto, concludiamo quell'anno e io vi dico, non ha senso dopo una stagione che sarebbe la terza consecutiva in cui vai a cambiare l'allenatore, iniziare già a buttare la croce addosso. Diamo fiducia, iniziamo un nuovo anno e poi valutiamo sulla base di quelli che saranno i risultati. E dato che anche il secondo anno di Allegri Bissa è partito male, perché è partito male, le prime due dicembre sono state due sconfitte contro PSG e contro Benfica. E alla settima di campionato, in Monza-Juventus 1-0, quindi dopo 52 partite del primo anno e 9 del secondo, una 61 partita, la 61esima partita, vi dico, ok, per me il ciclo di Allegri può concludersi qua. Non dopo quattro partite che non sono Udinese-Juve 2-2, Juve-Empoli 0-1, Napoli-Juve 2-1 o Juve-Milan 1-1 facendo due punti in quattro partite. Sono quattro partite in cui la Juve colleziona otto punti, segna sei gol, ne subisce zero ed è a pari punti dell'Inter, quindi un impatto decisamente migliore. Sono qui a dirvi che secondo me, al di là della delusione che è sacrosanta, si sta gonfiando un po' troppo il caos è il caso dentro alla Juventus e ce lo stiamo gonfiando noi, noi tifosi della Juventus. Me lo torno a dire, keep calm, sgonfiamolo sto caos, e sto caso mediatico che ci stiamo costruendo da soli. Anche perché la Juve oggi, ragazzi, è la miglior difesa dei top 5 campionati europei. Non c'è nessuna squadra nelle prime 5 leghe europee che non abbia mai subito gol. Solo la Juve di Tiago Motta. La delusione per quello che è lo sviluppo della palla, le azioni offensive, le conclusioni, i tiri, i gol sbagliati da Blaovic, eccetera, eccetera, le condivido. Sono tutti punti che condivido. Sono tutte cose che la Juve deve migliorare, deve sistemare. Perché le ultime due partite, le ultime 180 minuti non sono stati 180 minuti belli. Sono stati 180 minuti con tanti limiti. Con tanti limiti. E secondo me l'ultima partita, nello specifico, preparata male e giocata peggio. Allora, ragazzi, da qui a dare già i giudizi definitivi al 15 di settembre, secondo me, è ancora molto presto. Che non significa che questa stagione della Juve sarà un successo al 100%. perché non sono qui a dirvi che la Juventus ha, anche se ha pareggiato con l'Empoli, però vince il campionato, Coppa Italia, Champions League, Mundial e Play Club, Supercoppa e fa 5 titoli. Magari, chieserebbe dirvelo. Significa solo che in questo momento forse, forse, e dico forse, stiamo contribuendo a creare un clima che non aiuta per niente dopo 4 partite, dopo 4 partite che sono ben distanti da tre stagioni. Questa è soltanto la mia umile opinione. Ci vediamo oggi pomeriggio per commentare insieme le parole di Tiago Motta alla vigilia dell'esordio in Champions League con la Juventus. Ciao.